Ciao ragazze, bentornate sul mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte. Video dedicato allo shopping, shopping natalizio. Anche se adesso ormai le feste sono passate, ho fatto appunto un po' di compere, prima e dopo Natale, solo che con tutte le feste ovviamente non ho avuto tempo di girare e quindi vi giro adesso il video. Avevo piacere di farvi vedere che cosa avevo acquistato e che magari potevate anche voi prendervi spunto, vi piaceva quello che avevo preso anch'io. Ovviamente ho messo tutte quante, comunque metto pian piano le foto su Instagram, su tutti comunque i miei profili, anche sul mio profilo su 21button e quindi anche lì trovate qualche mia foto. In ogni caso adesso vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, questi giorni, mesi, in questo mese così, sono andata un po' in fissa con le calze. Avevo terminato un po' di calze colante, io le faccio andare via come niente, perché appena le mettete magari si smagliano oppure andate in qualche ristorante che ha le sedie di tipo di bimini. Insomma, c'è sempre un motivo un po' per rovinarle. Quindi ho detto, ma sì, faccio un giro. Nel frattempo, curioso un pochino, anche perché avevo già un'idea che durante Natale, natale, così, volevo mettere degli stivaletti bassi e sarebbe stato carino mettere magari qualche calzino semicorto che spuntasse, che comunque si vedeva. E allora sono andata un po' alla ricerca. Quindi sono passata da Calzedonia. Io non sono comunque una ragazza che mette i calzini corti anche in inverno, perché comunque mettendo poco le scarpe da ginnastica, preferisco mettere più altre scarpe, magari più stivaletti, più scarpe comunque quelle pelusciose, insomma, mettere scarpe un po' più calde e quindi di conseguenza non mettendo le scarpe da ginnastica, purtroppo, come ho visto tante ragazze che anche in inverno mettono comunque le classiche Adidas con la caviglia scoperta, per me non esiste. Io sono assolutamente freddolosa, quindi anche la caviglia deve essere coperta. Quindi in questo caso le calzini con le sfrutterei poco. Però ho detto, ma sì, magari mettendoli con una gonna, con un stivaletto a punto basso, un trucchettino a basso e che spunta fuori, è un'idea carina. E quindi ho preso, allora, vi faccio vedere, ho preso innanzitutto questo qua, questo paia di calzini, che queste qua le ho indossate proprio a Natale, però quindi purtroppo, scusate, non sono rimaste confezionate, ma perché avevo assolutamente voglia di mettermele e le ho prese appunto anche apposta e sono questo paio qua. Praticamente sono lunghe così, spuntano comunque fuori dalla, quindi superano la caviglia, quindi sono abbastanza altine, non tantissimo, comunque non arrivano al colpaccio. La cosa che mi ha, diciamo, colpito tantissimo è questo enorme fiocco di organza con tutti i brillantini che è veramente favoloso e stupendo. La calza è in microfibra, quindi potete utilizzarla sia come calzina normale, quindi da sola, oppure ad esempio io l'ho messa sopra appunto le calze, le collant, o se no potete utilizzarla anche senza, appunto, se non siete freddolose, mettete un pantalone, potete anche tranquillamente metterle così, perché comunque sono coprenti. E poi appunto hanno questo fiocchetto mega gigante, che è veramente favoloso e quindi mi ha colpito veramente tantissimo. Il prezzo comunque le ho pagate come le altre che erano della Special Edition e le ho pagate sugli 8,95€, come anche queste qua che ho preso. Ho preso anche queste qua, che sono sempre della Special Edition, queste qui praticamente sono con la retina, quindi queste non sono spesse come le altre, quindi sono a retina trasparente, come potete vedere, quindi tipo un collant a rete, quindi sono molto delicate e molto leggere. Quindi queste qua, ad esempio, le potete mettere anche con un bel décolleté, non necessariamente con un stivaletto. E poi c'è questo, che dovrebbe poi uscire così dalla scarpa, praticamente questa lavorazione qui, con tutte le paillettes, che fanno quasi tipo brillantinoso, ed è veramente favoloso, veramente bello. E anche questo è costato come l'altro 8,95€. Poi, sempre della Special Edition, ho preso questo modello, che però appunto è confezionato, tra l'altro la confezione è anche molto carina, che secondo me era un'idea anche molto, se la trovate ancora, magari adesso a verso gennaio, la trovate comunque anche in saldo, se la trovate ancora comunque, o può anche sul loro sito, è carina perché appunto ha la scatolina con la calamita, quindi rimane proprio a pacchettino, e poi praticamente avete la calza, la confezione delle calze. Io ho preso questo qua, vi faccio vedere le foto, che così facciamo prima, se lo mette a fuoco, praticamente la modella lo indossa con un décolleté, e coprente la calza, e poi ha tutta questa lavorazione, perché sono delle frange con attaccato, sono praticamente del tipo borchette neanche, tipo diamantini, tutte quante attaccate. ecco, tutte le frange fatte così, anche questo mi piaceva, perché quando lo stiva a letto così, secondo me è molto carino, e quindi ho preso anche queste, poi ho preso questo modello qua, che ce l'aveva indosso una mia amica, e quando glielo ho visto ho detto no, assolutamente le voglio anch'io, anche perché sono andata in fissa con le perle, e quindi ho detto assolutamente le voglio. Questo qua è praticamente, è abbastanza alto, quindi è un calzino corto, semi corto, perché comunque supera la caviglia, ma appunto non copre tutto il polpaccio, e taglia unica costa 5,95, quindi se dovete fare appunto dei regali, essendo taglia unica può andare bene per un piede piccolo, ma anche per un piede grande, la calza è tipo un microfibra, e la lavorazione con le perle praticamente farebbe così. Secondo me potete comunque metterla sia se avete, praticamente se mettete appunto un collant sotto, un pantalone di pelle, è troppo carino da farlo vedere, magari anche con un jeans scuro, come vi piace di più, però sono veramente troppo carine, per chi piace le perle secondo me sono veramente belle. Tra l'altro queste qua non sono cucite, sono proprio pressate, quindi spero che non si staccano, però erano veramente belle. Poi ho preso un altro paio con praticamente la perla, queste qua le ho già indossate, quindi ecco perché sono un po' messe male, sono già indossate perché non vedevo l'ora di metterle, e vi ho messo anche qualche foto su Instagram, così da farvele vedere più nel dettaglio, anche queste sono sempre taglia unica, costano sempre 5,95, praticamente è il classico anche questo calzino, che anche questo supera un po' la caviglia, e praticamente anche questo è coprente, è in microfibra, quindi è abbastanza coprente, è abbastanza spessino, e poi dietro avete gli attacchi, quindi avete questi due nastri in velluto, dove praticamente poi potete fare più giri intorno alla caviglia, e farvi dei fiocchetti con alla fine queste enormi perle, che sono veramente belle, il fiocchetto potete farvelo comunque davanti, potete farvelo dietro, potete farvelo ai lati, è uguale come vi piace più a voi, però anche questa secondo me è una bella idea, e veramente sono troppo belli, e quindi anche questo vi ha presi, poi appunto come vi dicevo prima, io non sono molto da calzini corti, perché appunto le sfrutterei pochissimo, però ho pensato, ma sì, tanto comunque sono di cotone, non tanto pesantissimo, potrei utilizzarlo anche nei primi giorni di primavera, che comunque verso magari marzo, così fa ancora freschino, quindi anche se metto le scarpe da ginnastica, col calzino va bene lo stesso, o se no potete semplicemente metterle anche con appunto la gonna e dei collant sotto, e ho preso questo calzino qua, che anche questo l'ho pagato 5,95 euro, sempre taglia unica, la cosa che mi piaceva tanto di questo calzino, è che praticamente aveva questo tipo di impelle, questo motivetto qua, che era veramente troppo bello, pelle lucida però, e quindi ho preso anche questo qua, anche perché quando sono passata da Calzedonia, l'ha commessa e mi ha detto, guarda c'è il, su tutti i calzini, sia special edition, anche tutti quelli che hai preso, c'è il 5x4, quindi ne prendi 5, ne paghi 4, ho detto perfetto, e quindi è per quello che ne ho presi anche tanti, e poi ho preso un tipo a questo qua, che sembra un calzino classico nero, però ha la particolarità che ha il fiocchetto in pelle opaca, così, e allora l'ho assolutamente preso, perché sono andata anche lì in fissa, non solo per le perle, ma anche per i fiocchetti, e quindi mi piaceva troppo, e l'ho preso, e quindi è questo tutto quanto le compere che ho fatto da Calzedonia, poi ho preso, dato che mi mancava, comunque facendo dei giri, comunque mi mancava una crema corpo, insomma un po' di prodotti beauty, e allora sono passata da Bottega Verde, ovviamente non poteva mancare, e così mi sono presa qualche confezione regalo, siccome avevo un po' di sconti con le cartoline, le testere, l'applicazione, l'app di Bottega Verde, ogni volta mi mandano sempre sconti, sconti, e quindi tutto assolutamente, vabbè, mi approfitto per prendere qualcosa di confezione, qualche profumo, profumazione natalizia, e ho preso, questa qua, che praticamente è la confezione, questo, questo qua è l'elisir dei desideri, c'è la crema corpo, che appunto ne avevo proprio bisogno, perché l'avevo terminata, e poi c'è un mini bagno schiuma, in realtà appunto queste confezioni qui, le potete utilizzare come confezioni, ovviamente regalo, come si dovete fare dei regali, potete utilizzarli anche adesso, anche questi, perché comunque alla fine, non è che, le confezioni regali si possono, si prendono soltanto a Natale, e basta, ci sono persone che appunto, magari sono nate a dicembre, sono nate a gennaio, sono nate comunque adesso, magari tengono anche fino a febbraio, comunque chi è nato a gennaio, volete fare qualche regalino, non sapete cosa fare, alla fine, secondo me anche questa, è una bella idea e regalo, io appunto, se no lo prendete per voi, come ho fatto io, io l'ho presa per me, perché alla fine ho detto, ma sì, tanto mi serve la crema corpo, per prenderla singola, che tanto alla fine come prezzo, c'era anche il bagno schiuma, comunque il bagno schiuma, bene o male l'utilizzo, mi piaceva la profumazione, e quindi l'ho presa, appunto per me, come profumo, vi dico subito, appunto questa qua, che è, allora, come profumazione, allora, vediamo se riesco a dirvi più o meno, che cosa mi ispira, allora, questo qua praticamente, l'Isir dei desideri, allora, a me mi sa di tipo caramella, sì, tipo caramella, tipo ciliegia, fragola, una cosa molto, comunque molto dolcina, non tutto sto nauseante, però, insomma, adesso poi lo proverò bene, mi piaceva anche molto, come era il colore, che è sul, tra lo rosso e il fuzia, quindi anche molto carino, e appunto, me l'ho presa appunto, per la crema corpo, poi ho preso, poi ho preso, sempre la confezione, questa qua, regalo, questa qui, ho preso, bacio sotto il vischio, che ha praticamente anche questa, la crema corpo, e il bagno schiuma, tra l'altro bianco, con tutti i brillantini, quindi sono veramente, veramente carino, non so se li lascia poi nel corpo, li proverò, però anche questa, è una bella, una bella idea, e praticamente, anche questo, come profumo, perché non me lo ricordo più, da quando l'ho sentito, in negozio, non è molto dolce, però, insomma, sembra buono, tra l'altro, che potrebbe piacere, addirittura, anche se uno magari, usa il bagno schiuma, insieme a qualche ragazzo, così, non è tutto sto femminile, quindi, è veramente molto buono, non è per niente nauseante, e poi ho preso, quando l'ho visto, ho detto, assolutamente, devo prenderla, e praticamente, sono i calzini, quindi le calze, molto pelusciose, con all'interno, la crema, sempre della linea, a bacio sotto il vischio, la crema datante, per i piedi, questa qua, penso che sia, il primo anno, che faccia, comunque, una crema per i piedi, effettivamente, è un'idea molto carina, per chi magari, vuole ammorbidire, i piedi, magari appunto, è delicato, così, anche questa è un'idea, molto carina, poi col fatto, che comunque, insieme abbinato, alle calze, pelusciose, è veramente, un'idea troppo carina, da come fare, come regalo, il profumo, appunto, è come l'altro, qui dice, vischio e cannella, quindi, c'è un po' di, un po' di cannella, quindi, per chi piace, ecco qua, e i calzini, sono veramente, più che calzini, calzone, sono veramente, bellissime, c'era fatta così, rosse, se no, c'erano anche sul beige, se non ricordo male, è sul beige, sempre con qua, il bianco, però, devono essere, veramente, non l'ho ancora indossate, dentro, hanno il pile, quindi, sono veramente morbide, 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 sono veramente, bellissime, e super morbide, quindi, crema, e poi, calzitoni, è un bel film, ci sta assolutamente bene, comunque, è una bella idea, a regalo, appunto, io avevo questi sconti, che se prendevate, appunto, le tre confezioni, così, si aveva, questo sconto, quindi, ne ho profittato, e poi ho preso, anche come piccolo, che anche questa, secondo me, è una bella idea, carina, da farvi a voi, o da regalare, è praticamente, il profumatore, per la casa, questo qui, ha forma di stella, che, praticamente, allora, ha la granella, da metterci dentro, quindi, secondo me, potete anche, prenderla poi, da altre parti, la granella, che tanto ne vendono, e poi, la scatolina, praticamente, è troppo carina, così, di tipo latta, fatto così, da appendere, magari, vicino al termosifone, vicino a qualcosa, comunque, che, ma, anche, da qualche altra parte, perché io pensavo, nel termosifone, e poi, dovrebbe essere, che si apre, in teoria, non so come, sì, è un po', è un po' duretta, però, ok, e dentro, ci mettete, la granella, e poi, appunto, stando vicino, a una fonte di calore, secondo me, si sente un po' di più, potete appenderlo, anche, dove volete, loro lo facevano vedere, da appenderlo, sul, sull'albero, e quindi, dove, dove, comunque, uno vuole, anche, magari, vicino all'armadio, vicino a delle cose, degli indumenti, e avete, appunto, la granella, insieme, che, secondo me, potete anche, comprare, tranquillamente, in quei posti, tipo, risparmiocaso, così, la granella, poi, quando questa qua, non profuma più, e, boh, qui, insieme a qualche cartolina, ovviamente, mi hanno, regalato, come, campioncino, la crema viso, questa qua, di, dell'uva rossa, che questa linea, non l'ho ancora provata, sono curiosissima di provarlo, per perli normali e secche, quindi, perfetto per questa stagione, vi dico poi, magari, come li trovo, ovviamente, un campioncino, quindi, farò presto a finirlo, poi, quest'anno, l'idea carina, che, se prendevate, appunto, delle confezioni regalo, da Bottega Verde, facevano un po', come fanno in estate, prendendo le confezioni, appunto, prendendo i solari, che vi davano, praticamente, dei premi, con la cartolina, un tot di timbri, quindi, se prendevate quattro, se ne prendevate tre, se ne prendevate sei, insomma, così, avevate dei regalini, quest'anno, hanno, appunto, c'erano le, tipo, le ciabattine, le lavette, quindi, mini sciogumanini, con la scatoletta rossa, e poi, praticamente, una, tutte le tanzine, con i loro piattini, quindi, era veramente, troppo carino, ovviamente, dedicato al Natale, io, ovviamente, ho preso, le calzine, che sono, tipo, tra calzine e ciabattine, perché sono antiscivolo, sono, comunque, taglia unica, e, siccome, appunto, ho detto, ma sì, sono quelle, che comunque, utilizzerei di più, che mi piacciono, e quindi, prima che le tazzine, o gli asciugamanini, ho detto, prendo assolutamente questi, che sono, veramente, carini, quindi, prendendo queste confezioni, in regalo, mi hanno dato, in punto, in regalo, questi, questi qua, queste ciabattine, con la rennina, e, appunto, in antiscivolo, e quindi, sono super immobili, perché dentro, hanno la, la lanetta, quindi, sono veramente, pelucciose, al massimo, buon, questi sono tutti quanti, i miei acquisti, che ho fatto, in questi, in questi vari giorni, ci vediamo, nei prossimi video, se vi è piaciuto il video, un pollice in su, magari, se avete qualche prodotto, da consigliarmi, che avete preso, da Bottega Verde, che io, magari, non l'ho ancora provato, di qualche linea nuova, che non ho ancora provato, consigliatemi, dei prodotti, e ci vediamo, in tutti, gli altri, social, ciao! Ciao!